Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Non so perché lo sto facendo, ma siamo ritornati su StembleGuys. Sarà un ritorno ufficiale? Lo scopriremo insieme. Quindi mi raccomando lasciate un bel pollice in su per questo ritorno su StembleGuys, iscrizione al canale e campanile attiva. Allora, non so da quanto tempo non ci gioco, però una cosa che sto subito notando è Monopoli. Ok, hanno fatto una mappa di Monopoli, no raga, deve essere molto molto interessante. Però prima di tutto guardiamo se la nostra fortuna in questo gioco è sempre la stessa. Allora, quindi andiamo subito a vedere i premi gratis, vediamo se la nostra fortuna è come era prima. Vediamo un po'. Dovrei trovare un gettone o 5 massimo. Eh, attenzione, giurale leggendaria. Ah, no, il doppione, ok, ok. Sembrava strano. Gira una ruota. Ah, ci sono le spirit quotidiane adesso? Ah, interessante sta cosa. Poi, qua abbiamo una marea di cose strane, ok. Dovrebbero esserci però anche i giri in fondo, mi sembra. Eccolo qua. Ah, due giri gratuiti, anche qua sarà monetina. Eccole qua, le nostre 5 gemme. Guarda lei qui. Vediamo se abbiamo poi un paio di gemme per riscatare qualcosa. Un giro epico lì, i gettoni, i gemme. Vediamo un po'. Ed ecco il nostro amico gettoncino. Quello che abbiamo trovato non so quante volte. Allora, abbiamo però 46 gettoni. Vedo che abbiamo dei biglietti ST e delle banconote del Monopoly, non so cosa siano. Adesso lo scopriremo probabilmente insieme. Però ho 46 gettoni epici, quindi posso prendere una skin epica. Andiamo a vedere un po' cosa troviamo. Ed ecco questo doppione. Tra l'altro hanno cambiato anche la ruota, la grafica. Avranno aggiunto mappe, qualcosa? Va bene. Io non ho già, non voglio commentare. Ehm, ok. Va bene. Con 79 posso prendere qualcosa del Monopoly da aprire? Cos'è sta roba? Riscatte gettoni super per ottenere super ricompense. Ma che cavolo è sta roba, raga? Ne apriamo uno del Monopoly. Non so cosa sia. Può andare nel negozio per acquistare l'altra volta? Ma ce l'ho. Ma costa 30... Ah, non 30 di queste. 30... Ok. Pensavo fossero gettoni. Di le gemme. Ho capito. Ah, con le missioni cosa sblocchi? Sono sbloccato esattamente. Gioco a 5 partite. Gioco a 2 partite. Allora, prima di provare una partita del Monopoly, vuoi provare una partita normalissima e vedere che cosa hanno cambiato. Quindi, andiamo a vedere se siamo ancora in grado di poter vincere una partita in questo gioco. Tra l'altro, quanti di voi stanno giocando attualmente ancora a Stainball Guys? Cosa ne pensate? Vi sta ancora piacendo? Ci giocate tanto? Non ci giocate più? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vediamo un po' se hanno aggiunto qualche nuova mappa. Qua è il nostro amico Willy. Il pulcino Willy l'avevamo chiamato così, se non sbaglio. Allora. Vediamo un po' le mappe. Mi sembrano... No, non ho visto qualcuna nuova. Non ho visto qualcuna nuova. Grigia. Non riesco però a capire cos'è finché non la ferma. Niente. Guardiamo le mappe che girano. Ma... Ne uscirà una prima o poi. Ma? Ma in 32? Ma sei serio? Ma? Ok. È normale che adesso si può fare in 32? Io raga, veramente, non so da qual... Ma che è quella roba? Perché c'è una pallina che gira? Che razza di personaggio era? Allora, l'importante è non perdere la prima, eh. Mi raccomando. Ecco, come l'ho detto. Piano. Eh, attenzione. Prima round è andata. Ok. Non sapevo avessero messo... Ah, ho riscosso un premio. Avanzo vinci, non i drop. Vado a block dash. Ok. Carine queste skin nuove che hanno fatto, comunque. Non capisco che cosa sia se è una specie di... Cos'è lanterna? Oh, eh, macarena. Via, via, via. Spero che ho preso tipo lanterna verde in stile Stemball Guys. Ah, stavo dicendo strano che non usano le motte. Hanno smesso di usarle. E invece... Ah, beh. Questo perde banconote, non si sa come. Vado, raga, quanto tempo che non giocavo a Stemball Guys. Dai, devo arrivare in finale almeno la prima ola. Però a sto punto se... Non è troppo alla prima. Block dash alla seconda. Cosa mi mette come finale? Boh, almeno che sto continuando a sbloccare i premi. Cos'è sta roba? Sharg. S. Oddio, cos'è sta roba? Era questa la pappa greggio che dicevo. Cosa devo fare? Ma è uguale, identica all'altra, ma... O c'è qualcosa in più? Boh, io sto in movimento. Ah, ci sono anche i barili. Ahia! Ma perché c'è una pallina lì? Ma che è sto coso? Ma... No! C'è quello lì per usare... Cos'è caduto lui? Lasciatemi in pace, sono qui tranquillo. Perché c'è uno squalo... Ok, uè! No, questo non mi sbucherà da qui, spero. Cosa sto vedendo? Ah, no! È la barca che lancia gli squali. Ma... Ma questa roba esplode da sola, poi. Questa qua a destra. Oh, cavolo. Dai! Ah, posso salire sui barili? Ok. Eh, questo qua doveva venire? Non penso che mi faccia esplodere questo, vero? Ok. Andrò qui. Cioè, sono nell'unica parte dove non posso scappare, in poche parole. Ok. Vai, potete far perdere qui due là, per favore? Vai. Oh, cavolo. E qua? Porca! Ci arrivo? Madò! Lì, però, mi sembra che usava le motte prima. Ehi! Io lo uso le motte? No, non posso usare. Ma come mi vuole lasciare le motte? E let's go, guys! Prima partita al nostro ritorno su Stainball, guys. E la andiamo a vincere! Let's go! Ecco la nostra nuova coroncina. Abbiamo pure... Arriva primo su 32 giocatori. Ho fatto un sacco di sfide, ma non so cosa servono. Che dire, ragazzuoli? Prima partita, prima vittoria. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se ancora non avete fatto, vi chiedete di lasciare un bel pollicione in su. Quindi un bel like, iscrivetevi al canale, campanile attiva. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Se volete che andiamo a fare anche un video dove proviamo la mappa a tema Monopoly. Questo nuovo evento che si chiama Monopoly Rush. Noi ci becchiamo in un prossimo video o in una prossima live. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!